Con oggi completiamo la messa in esercizio dell'Ottavo Vivalto, finalmente 8 treni, li abbiamo messi in servizio grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna in ottica di miglioramento e di rinnovamento del parco che poi, come sappiamo, si concluderà nel corso del 2019 con le missioni in esercizio del nuovo materiale rinnovabile. Il programma sul quale ci eravamo impegnati per le missioni in esercizio si è completato e si completa con largo anticipo. Si sarebbe dovuto completare entro la fine di maggio, siamo alla fine di marzo e quindi in anticipo di due mesi. Si concretizza l'impegno che avevamo assunto sia con la Regione sia con i nostri pendolari per le missioni in esercizio di questo nuovo tipo di materiale rinnovabile che finalmente consentirà l'effettuazione dei servizi sui regionali veloci Bologna-Piacenza, Bologna-Rimini-Ancona completamente col materiale di nuova generazione. Nel corso del 2017 avremo anche altre novità, ci saranno immesse su alcune linee che afferiscono a Bologna altri materiali rotabili di nuovo tipo in sostituzione di automotrici leggeri, elettriche di vecchia generazione. Anche questi grazie al comodato che la Regione ci consentirà su degli ETR 350 e quindi un altro passo in avanti verso il miglioramento del servizio che ricordiamo nel corso del 2017 sta confermando anche in termini di risultati l'impegno che abbiamo già avviato nel corso del 2015 e del 2016 sia in termini di puntualità, sia in termini di affidabilità, minore cancellazione e migliore performance erogata verso i nostri clienti che ci stanno comunque premiando anche in termini di soddisfazione del servizio. Dai dati di Castole che ne vediamo periodicamente infatti abbiamo già nei primi mesi del 2017 un buon risultato, oltre l'80% dei nostri clienti si dichiarano soddisfatto del viaggio nel suo complesso.